scorpione abbiamo proprio a che fare con le nostre anime gemelle in questo periodo ma una separazione sembra avvenire questa settimana o comunque attorno a questo periodo un periodo lontano dal proprio partner potrebbe essere una cosa momentanea non per tutti si tratta di una cosa definitiva anzi credo proprio che per la maggior parte di voi si tratta di una cosa davvero momentanea ciò che importa comunque è che un periodo di prosperità è di fronte a voi e voi potete già sentirlo avete già questa sensazione che qualcosa di positivo si sta muovendo verso di voi ed ecco che questo qualcosa di positivo arricchisce la vostra vita vi fa sperare in un futuro più bello più luminoso più appagante ed ecco che le piccole difficoltà quotidiane passano in secondo piano perché l'obiettivo principale è talmente tanto più grande rispetto alle piccole cose che viviamo ogni giorno che ci permette di andare avanti spavaldi e sicuri di noi per quanto riguarda appunto questo periodo di separazione beh sicuramente sta lì per insegnarci qualcosa nulla accade per caso quindi cerchiamo di comprendere da questa distanza che sia una distanza fisica emotiva materiale mentale cerchiamo semplicemente di comprendere ciò che questa separazione vuole farci vedere a